E' stata fissata al prossimo 17 novembre l'udienza preliminare nel corso della quale, come richiesto dall'avvocato Pierluigi Spadafora, che difende i tre indagati accusati di omicidio e occultamento di cadavere, conferirà l'incarico al consulente tecnico che dovrà dire se lo scheletro ritrovato in un casolare abbandonato nelle colline tra Ponte Cagnano Faiano e Monte Corvino Rovella è davvero il corpo di Marzia Capezzuti, la ragazza di origini milanesi di 29 anni, affetta da disabilità, scomparsa a Ponte Cagnano il 7 marzo del 2022. Al momento della scomparsa la ragazza viveva a casa della famiglia Vacchiano, la famiglia del suo ex Alessandro, anche dopo la morte di quest'ultimo. Il GIP Alfonso Scermino ha accolto la richiesta di incidente probatorio avanzata lo scorso 7 novembre da Pierluigi Spadafora e dunque tra una settimana esatta inizierà la ricerca definitiva della verità su questa vicenda. Non sembrano nutrire molti dubbi che quello sia il corpo della figlia, i genitori di Marzia che ieri, come riferito dalla trasmissione Chi l'ha visto, sono stati ascoltati dai PM di Salerno. Ciro e Laura, tutelati dall'avvocato gentile Nicodemo, hanno parlato col magistrato Lucia Bivaldi e i carabinieri come persone informate dei fatti. Il padre Ciro avrebbe chiesto al PM di poter vedere il corpo ritrovato ma la richiesta non è stata autorizzata come prevede la normativa essendo la Salma sotto sequestro.